Dopo Pfizer, Moderna ed AstraZeneca inizia adesso la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson. Il nuovo siero americano verrà infatti somministrato a partire da domenica al Centro Affari di Arezzo alle persone con un'età compresa tra i 70 e i 79 anni. La principale caratteristica di questo siero è quella che l'iter vaccinale si conclude con la somministrazione di una sola dose, quindi non occorre fare il richiamo. Per ogni fiala è possibile ricavare 5 dosi ed il prodotto si conserva ad una temperatura di 2-8 gradi per 3 mesi. Per quanto riguarda invece gli effetti collaterali, sono risultati generalmente lievi o moderati e risolvibili in un paio di giorni dalla vaccinazione. I più comuni sono dolore al sito di iniezione, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e nausea. La campagna nel weekend tra il 24 e il 25 aprile nella sud-est prevede 3.138 vaccinazioni, escluse quelle ospedaliere, suddivise in 1.264 ad Arezzo, 882 a Siena e 992 a Grosseto. Per quanto riguarda la vaccinazione Johnson & Johnson è prevista solo la giornata di domenica 25 aprile ed è riservata ai 70-79 anni che si prenoteranno sul portale regionale a partire dal pomeriggio di venerdì 23 aprile. Contemporaneamente proseguirà anche la campagna vaccinale al teatro tenda per le persone estremamente fragili con il vaccino Pfizer nei giorni 24 e 25 aprile.